GF VIP7, Nikita Pelizzon se la prende con gli delle reality, cos'è che volete? Vedermi andare in tilt? Nikita Pelizzon ha avuto un momento di sconforto nella casa del grande fratello VIP7. A consolarla, l'amica Antonella Fiordelisi, alla quale la modella ha confidato. In lacrime, di non capire quale sia lo scopo degli autori delle reality, che lunedì scorso hanno fatto entrare nella casa tre ex fidanzati. Nikita ha quindi sottolineato come il suo malessere sia imputabile anche al comportamento che Luca Onestini le ha riservato. E ancora, ha evidenziato che i suoi rapporti con le concorrenti siano influenzate dalla vicinanza alla Fiordelisi. Se Nikita nutre qualche perplessità sull'operato degli autori del GF VIP, Daniele Dal Moro le idee un po' più chiare. Parlando con l'ex fidanzata Martina Nasoni ha riportato cosa gli è stato detto in confessionale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.